Il caro Prezzi non ha risparmiato nemmeno il mondo agricolo, siamo in provincia di Foggia presso l'azienda di Andrea Suriano al quale chiediamo che contraccolpi state subendo per via degli aumenti che si stanno verificando un po' su tutto. I contraccolpi sono notevoli e sono ancora di piccola entità rispetto a quelli che poi accadranno e avverranno nei prossimi mesi, infatti adesso è in atto la programmazione delle future coltivazioni. Proprio in questo momento notiamo le difficoltà maggiori, prima di tutto la difficoltà di trovare anche le materie prime di reperibilità per poter poi iniziare i prossimi trapianti, aumenti di prezzi nel costo delle piantine, delle concimazioni, la difficoltà da parte anche delle industrie di garantirci la possibilità di poter produrre il prodotto nuovo, gli nuovi ortaggi, soprattutto per l'utilizzo nell'industria, proprio perché anche loro hanno una forte difficoltà nel poterci garantire la lavorazione del prodotto, perché loro come noi stanno subendo fortemente il caro dell'energia elettrica, il caro del gasolio e il caro del gas. Noi dal nostro punto di vista abbiamo anche altri problemi come quelli climatici che ci portano in questo periodo, in un periodo di siccità, quindi in un periodo invernale dove siccità non ce ne dovrebbe essere, a dover utilizzare l'acqua e quindi la corrente per poter irrigare i nostri prodotti ad avere altre spese, ulteriori spese per un prodotto che comunque poi non ci viene riconosciuto il prezzo giusto. Noi siamo delle aziende, siamo dei professionisti ma allo stesso tempo non possiamo più di tanto rischiare sia le nostre capacità e non possiamo permettere di andare in perdita. Noi nel nostro piccolo dove riusciremo andremo avanti, però garantendoci un margine di sicurezza. Quindi aumentano i costi di produzione e non aumentano invece i prezzi al consumo? Assolutamente no, i prezzi al consumo restano più o meno stabili. Nel momento in cui ci sono determinati prezzi e determinati ortaggi che aumentano di prezzo è perché c'è stata una bassa produzione e quindi questo piccolo aumento di prezzi ci va solo ad appianare la mancata produzione. Cosa chiedete? Chiediamo prima di tutto di cercare in qualche modo di calmerare questi aumenti per quanto è possibile e di capire anche l'eventuale aumento dei prezzi dei prodotti è necessario una maggiore remunerazione nei nostri confronti. Direttore aumentano i costi di produzione e gli agricoltori di Capitanata si lamentano e dicono di non potercela fare più ad andare avanti? I costi di produzione riescono quest'anno a mettere veramente in ginocchio le imprese agricole. Abbiamo fatto una valutazione per il grano già dall'inizio alla semina costava circa 300-400 euro in più solo mettere a terra la semente quindi abbiamo dei costi abbastanza elevati su tutte quelle che sono le culture. C'è grande preoccupazione anche per il pomodoro nel quale c'è un ingresso di un esborso iniziale di soldi abbastanza elevato e anche questo quindi sia sul grano sia sul pomodoro ma anche sull'asparago ma su tutte le lavorazioni che noi andremo ad incontrare in questi mesi prossimi abbiamo delle grandi difficoltà che sono dai costi dell'energia ai costi delle sementi ai costi di tutte le attrezzature che sono comunque saliti alle stelle. Cosa teme? Che ripercussioni ci saranno? Le ripercussioni sono importanti già il fatto che si prevede una diminuzione di superfici perché la valutazione è una diminuzione di superficie agricola coltivata può dare incentivo a che cosa? speculazioni del tipo pannelli fotovoltaici o cose del genere o altre speculazioni di cui non voglio nominare in questo momento, di cui non voglio parlare in questo momento. Cioè? Speculazioni in generale ma soprattutto dobbiamo stare attenti in questo momento perché dobbiamo essere sereni nel fare il lavoro dei agricoltori, cercare di sfruttare tutte le leggi come quelle delle pratiche sleali che è uscita da pochissimo tempo e che non può far abbassare il prezzo al di sotto dei costi di produzione, ma anche e soprattutto essere organizzati e essere sempre più performanti per quanto riguarda l'organizzazione all'interno delle nostre aziende agricole. Grazie a tutti!